Al via il progetto di recupero di due edifici ATER di Borgo Marino Sud, uno dei quartieri più antichi di Pescara, punto di riferimento per la cultura della città. Il progetto, in mostra nel Timespace Existence Event organizzato dagli European Cultural Center per la Biennale di Architettura di Venezia 2023, prevede il piano di miglioramento sismico, di riqualificazione energetica e un nuovo livello di accessibilità e comunicazione sociale tra gli alloggi. L'obiettivo ultimo è rigenerare tutta l'area di proprietà dell'ATER con l'introduzione di quattro nuovi volumi, due per ogni edificio, che andranno ad ospitare scale e ascensori in luoghi di sosta. I lavori su progetto dell'ufficio tecnico dell'ATER di Pescara e affidati alla società Tenaglia SRL sono iniziati oggi, venerdì 16 giugno, e avranno una durata di 540 giorni per un importo complessivo di 5.195.667 euro finanziati con le risorse del PNRR. Oggi vengono consegnati i cantieri, parliamo di 8.000 metri quadri circa, ci sarà un intervento molto sostanzioso sia a livello di miglioramento sismico e efficientamento energetico. Questo è un progetto fatto all'interno della struttura, poi la parte strutturale e altre parti vengono fatte da professionisti esterni, però il disegno, tutto quello che sia, la parte proprio visiva che vedrete a fine lavori è stata realizzata internamente. Sono due palazzine, una alla mia sinistra e una alla mia destra. Queste sono le palazzine che subiranno questo intervento e che sono totalmente di proprietà dell'ATER. Questi sono fonti PNRR che però non sono fonti a pioggia, noi abbiamo vinto un bando e siamo classificati i primi e abbiamo preso circa 18 milioni sia per Pescara ma anche per la periferia, Montesilvano e anche su Città Sant'Angelo e Popoli. La cosa importante è che riqualifichiamo una zona anche a livello urbanistico ma anche visivo.